La qualifica di Rione e San Dottardo I desini sono stanchi quest'anno Sono fuori allenamento, dopo questi anni persi sono un po' fuori allenamento Forza, è una passeggiata tranquilla Vai, 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 vai Ritorniamo al piacere del tempo per il nostro Rione Si sta riprendendo sull'u... La partita non sto sabendo È sempre lei Allora, va bene Santa Cristina, eh, tanto via Tira sulla mano Con l'ultimo, con l'ultimo tempo disponibile Eh, poi si è fermato Eh sì, si è fermato Ma che internazio? Ma che internazio? Ci sono stati qualche doppiamento di sicuro, vediamo che possa stare da Cristinetta sotto il nostro porto, San Bernardo ormai ha il ritmo, San Bernardo vincitore dell'ultimo paio numero 5 ha il ritmo, nelle gambe dell'asino, là in fondo c'è sempre quel punto di saluto. San Bernardo vincitore dell'ultimo paio numero 5 ha il ritmo, nelle gambe delle gambe delle gambe delle gambe delle gambe delle gambe delle gambe. San Bernardo vincitore dell'ultimo paio numero 5 ha il ritmo, nelle gambe delle 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 gam Al primo posto abbiamo visto San Bernardio, si aggiudica il Palio. Al secondo posto Tommaso Corregimi, che magari mi sono dimenticato, c'è San Go. San Gottardo al secondo posto, terzi classificati Santa Cristina. Questo è il podio del Palio 2022.